Omar Pedrini con Sasha, casa mia. Prima di venire alla tua parte solista, c'è una canzone dei primi Timoria che puoi fare con Sasha? No, no, ci terrei a fare proprio questa e a chiudere con questa canzone che è stata molto importante per noi, perché è scritta in un momento molto difficile, dopo la separazione con Francesco, quindi in un momento in cui sentivamo un po' anche la mancanza di fiducia nei nostri confronti. Io scrissi questa canzone praticamente in una notte, in una notte folle e indimenticabile allo stesso tempo e dopo neanche 20 giorni era diventato Disco d'Oro, il nostro ultimo in ordine temporale, spero, Disco d'Oro e si titola Solo e Spento. Timoria, Solo e Spento! Ci sono giorni in cui mi sveglio e spento e tutto sommato provo a starci dentro Nella mia stanza aspetto il mio momento Sono qui, aspetterò Qui, aspetterò Quando la vita sembra un treno lento Quando la vita sembra un treno lento Spesso gli amici fuori e muoio dentro La mia generazione senza vento La mia generazione senza vento Sono qui, aspetterò Io aspetterò Finché arriverà il mio momento Stammi accanto col pensiero Stammi accanto col pensiero Quando sei condannato al pentimento Stanco di sentir dire non ho tempo Come in un sole in cui sentire freddo Sono qui Aspetterò Io aspetterò Finché arriverà il mio momento Stammi accanto col pensiero tu Tu stammi accanto Sole spento Io ti sento con me Oh, oh Qui aspetterò Io aspetterò Finché arriverà il mio momento Stammi accanto col pensiero tu Tu stammi accanto Sole spento Sole spento Tu sei dentro di me Grazie 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 Arrivederci